conferenza stampa di 16 mm alla rivoluzione di giovanni piperno e con con giovanni sono presenti luca ricciardi dell'amod e poi vincenzo vita che il presidente dell'amod paolo pedrucci montaggio del film alessandro niballi cosceneggiatore e assistente corregista perché ho visto no perfetto assistente a montaggio per parlare spingiamo quella cosa siamo in attesa di una grande ospite che luciana castellina che speriamo riesca a farci un assieme un altro un saluto perché purtroppo ce la farà ce la farà anche perché da come diceva giovanni treno in sciopero pullman pur di esserci e questo e questo è meraviglioso allora giovanni iniziamo subito con te perché mi è rimasta impressa una frase che tu pronunci durante la voce fuori campo che accompagna questo bellissimo film di montaggio e non solo e anche di ricordo e di soprattutto di ricordi tra te appunto e luciana castellina perché c'è uno scambio di opinioni di vedute di un passato tutto supportato da dal materiale di repertorio prevalentemente dell'amod se non sbaglio ecco tu a un certo momento usi una frase che un'immersione nell'archivio prego sì prima agostino diceva bisognerebbe avere spazi di vita per interi per immergersi negli archivi ed è proprio così cioè gli archivi non bisogna mai fare le ricerche con la parola chiave basta perché gli archivi sono come degli universi e io ho avuto la fortuna di lavorare in passato più volte con l'istituto luce quindi ho un po un'abitudine all'immersione negli archivi e mi sono ritagliato stavolta sapendo quanto ci bisogna lasciarsi andare mi sono ritagliato degli spazi nel settembre del 2021 mi sono fatto ospitare dai miei parenti in campagna che avevano una casa vuota in quel momento e ho fatto una settimana ancora non sapevamo se avremmo fatto il film se avessimo avuto se avremmo avuto i finanziamenti però ho fatto una settimana di full immersion nell'archivio e diciamo insieme alla conoscenza di luciana questa immersione è stata uno dei motivi per cui io e luca poi fino abbiamo voluto fare nel senso che io ho la prima volta collaborato con l'amod era il 1900 credo 91 se non sbaglio per un cortometraggio sulla deportazione gli ebrei romani nel 16 ottobre del 43 quindi però io un'immersione così profonda nell'archivio non l'avevo mai fatta e quindi ho scoperto dei materiali così belli che meritavano di essere di essere riportati alla luce pur cercando sempre d'accordo con luca e con tutta la squadra di non fare un film nostalgico cioè questo comunque non voleva esserlo è vero si basa sui ricordi ma luciana lo vedrete fra poco arriva non è un personaggio nostalgico è sempre nel presente e io ho cercato insomma di essere semplicemente il ragazzino perché questo film è finanziato dalla presenza del consiglio e dovrebbe andare a un certo punto pure nelle scuole quindi è un film rivolto ai ragazzi di oggi quindi io ho usato me stesso per fare il ragazzino allora alessandro aniballi si è stato tirato in ballo scusa il gioco di parole come se riuscì come siete riusciti nel nel momento in cui avete iniziato questo questo progetto appunto a tenere sempre la la corda alta la tesa e non scendere poi nella nostalgia nel ricordo melenso cosa come si fa come si fa come si lavora in due in questo per cercare di non arrivare di non di non scadere tra virgolette no vabbè noi abbiamo diciamo abbiamo prima lavorato sull'intervista a luciana quindi abbiamo selezionato il testo cioè quello che aveva detto no e e poi abbiamo cominciato a a pensare alla alla voce di giovanni che doveva essere abbastanza personale no quindi abbiamo pensato di mischiare un po gli elementi quindi tra l'aspetto più storico di luciana e quello più personale di di giovanni di giovanni senti la scelta la scelta faccio la faccio a te la domanda la scelta di fare l'intervista con luciana a distanza è stata una mia curiosità è stata una cosa dettata dalla pandemia oppure una cosa pratica una scelta pratica no è stata un po casuale cioè nel senso che siccome appunto abbiamo cominciato a lavorare nel 21 quindi c'era ancora le ondate e io però appunto avevo cominciato a fare questo avvicinamento con luciana e quindi mi facevo raccontare la sua vita c'è stato un momento che io avevo sospettato di avere il covid poi è stato un momento in cui ho avuto il covid veramente insomma un po per sicurezza ho fatto delle conversazioni con luciana ma in realtà soltanto due però lunghe di un'ora abbondante via skype e ho detto me le registro perché così ce l'ho come come filo conduttore come ricordo per fare l'intervista vera e propria però quando c'è stato un momento come stesso succede in questi lavori di crisi al montaggio cioè c'era il film era un po bloccato in quel momento luca ricciardi ha detto ma c'è qualcosa ci vorrebbe un po più di dialogo fra te e luciana c'è qualcosa in cui e io ho detto beh ci avrei le registrazioni skype e da lì poi e luca ha detto beh usiamo questo e addirittura entra ancora più nel film tu perché con questo dialogo il film si vivacizza e diventa più empatico e quindi a quel punto dei materiali che erano soltanto stati registrati come appunti sono entrati nel film perché alcune cose che lei aveva detto durante le conversazioni skype io non gliele avevo richieste nell'intervista e comunque non l'aveva detto con quella spontaneità e in più lo dico senza così senza trucco e senza inganno mi faceva proprio piacere mostrare che luciana castellina 94 anni quando l'ho detto ho un po problema a venire da te a trovarti non so se c'è il covi che problema c'è facciamo una cosa online cioè tac se collegata due volte l'ha fatta proprio senza colpo ferire cioè io ogni tanto ho dei problemici col computer infatti no ma tra l'altro volevo aggiungere che da qui è nato proprio proprio l'idea no di lavorare su questo rapporto tra tra luciana e giovanni giovanni e quindi anche per esempio la prima domanda no che che gli fa giovanni l'abbiamo l'abbiamo tenuta proprio perché doveva in qualche modo l'equilibrio che dicevi prima e doveva esserci come dire questa relazione doveva in qualche modo svilupparsi ed essere viva diciamo c'è qualche curiosità dalla sala eccola qui io sono curioso di conoscere la vostra reazione quando avete scoperto davoli e citi in giro in vespa ne parlavamo prima che è una sequenza premorettiana ecco vorrei sapere proprio la vostra reazione quando avete visto questo materiale a meno che non lo conosceste già in precedenza io personalmente non sapevo neppure dell'esistenza di questo materiale allora la cosa bella appunto della ricerca d'archivio che alle volte si finisce a trovare delle cose che non si non ci si aspettava ritrovare io il film dentro roma di gregoretti l'ho trovato quando lavoravo al film precedente del istituto luce cipria e non ricordo adesso se perfino questo film invece di giuseppe ferrara io voto tu voti se l'ho trovato nella nella prima settimana di immersione ramo se addirittura anche lì l'avevo già visto perché c'è stato un periodo in cui cercavo dei tram ecco che arrivata luciana ecco luciana castellina e benvenuta grazie grazie il pulmo per stare con noi grazie infinite quindi diciamo che siccome io avevo una così da ragazzo avevo un grande amore per petroselli nel senso che stato il primo sindaco di roma che ci ha dato la sensazione che finalmente la città potesse cambiare eravamo tutti innamorati di quel singolo ed è cambiata perché lui che poi ha permesso a Renato di Colini di fare quello che ha fatto che è stata una non è una non è una sciocchezza l'estate romana cioè si è stata imitata in tutto il mondo è un modello che adesso è riprodotto in mille forme quindi per cui quando ho trovato quel materiale lì in cui i tavoli e citti che appunto come dice il nostro montatore non c'era bisogno che il torino film festival dedicasse addirittura un'intera diciamo retrospettiva a un nostro personaggio minore però vi ringraziamo per questo gentilissimo dottor de pascalis è stato veramente e quindi diciamo a me di quel materiale non ho pensato tanto alla vespa che era un che bella ma non ho pensato neanche a moretti la cosa che mi aveva colpito era l'incontro con col sindaco con petroselli perché appunto petroselli quando uno fa la ricerca può andare avanti indietro rivedere i punti aveva tutti dei piccoli tic che uno c'ha quando è veramente stanco e lui sapeva che doveva fare il filmone elettorale per la sua rielezione la faceva però si capiva anche nel suo disagio perché in quel periodo lì fino agli a tutti gli anni 80 forse craxi è stato il primo a cambiare questo in questa direzione i politici non avevano l'abitudine no a essere seduttivi con i media e quindi era completamente a disagio sta doveva fare questa cosa ma allo stesso tempo la genialità del regista che gli ha messo di fronte due diciamo ex borgatari e quindi petroselli comunque sentiva l'autenticità dei suoi interlocutori anche se era tutta una messa in scena e questo è questa cosa che mi ha emozionato più di tutto e poi dopo la vespa ci stava tutta ce l'abbiamo montata però insomma è stato petroselli che mi aveva toccato così è nata io ricordo ancora le parole del mio maestro luigi proietti quando dice perché sapete che è morto petroselli è morto de sindaco che è una frase secondo me rimasta impressa a distanza di 40 anni luciana castellina a questo punto le do il microfono e veramente e attendiamo solo le sue parole per ora ok allora allora vado direttamente alla produzione volevo volevo sentire luca ricciardi e questo progetto come come ti è stato ti è stato portato e ma più di collaborazione avete avuto diciamo c'è una come tanti documentari ha una strada un po rocambolesca noi nel 2020 avevamo pensato immaginato in archivio se vuole produzione per l'archivio di fare un film d'archivio fatto in tanti episodi con tanti registi anche importanti c'era virzi montaldo c'era valentina pedicini volevo fare un film d'archivio in cui ogni regista liberamente attingeva al nostro materiale per raccontare qualcosa del pc questo per l'anniversario del 2021 questo film non si fece non ci fu diciamo una non troviamo i finanziamenti ci fu un po una chiusura abbastanza forte della rai di tutte le strutture della rai e tra questi registi c'era anche luciana castellina che però non era una regista ma noi volevamo avere lo sguardo di luciana e io conoscevo giovanni per diciamo varie cose abbiamo lavorato molto insieme in dei workshop di produzione regia così e ho pensato che luciana e giovanni insieme potessero essere diciamo un tandem efficace no e anche per l'ironia di giovanni documentario non si è fatto giovanni però a differenza di tutti gli altri registi è rimasto attaccato a quest'idea di fare un documentario con materiali del pc su luciana e poi e quindi ci siamo risentiti alla fine abbiamo trovato un bando strano cioè un bando della struttura per gli anniversari della presidenza del consiglio che nel 2022 finanziava l'anniversario del pc che c'era stato nel 2021 un'assurdità però abbiamo chiesto un finanziamento l'abbiamo ottenuto e su questo abbiamo cominciato a lavorare insieme su questo progetto e poi appunto è stato interessante vedere come da un'idea di fare un film sul pc intervistando luciana castellina questo film lavorandoci con lavoro appunto di giovanni e degli altri è diventato un modo di giovanni di scoprire un'eredità la sua personale eredità no quella che lui raccoglie dal pc attraverso il dialogo con luciana quindi qualcosa di molto più interessante e poetico allora adesso a questo punto se la si se luciana castellina è è pronta sentirei la sua voce c'è una castellina un po travolta perché posso immaginare dei treni e quindi sono dovuto venire da milano in modo tempestoso con un flix bus che non consiglio a nessuno va beh il film immagino che giovanni gli hai raccontato io sono solo contenta che si riparli del partito comunista perché tutto calcolato con tutti i suoi difetti è stato un gran partito e quindi è stato anche un pezzo della società italiana molto ampia che resiste badate non si esprime politicamente però c'è e la vedi nella cultura della gente nel modo commerciale ricordano io che giro in continuazione mi sembra che tutti siano passati per il partito comunista non deve essere vero visto che come vanno le elezioni però comunque è un fatto un segno della nostra società ancora ancora molto forte e con parecchia curiosità dei più giovani curiosità per questo fenomeno strano che è stato partito comunista è stato due milioni di iscritti quando lo dici ti guardano sbalorditi non ci credono pensa che racconti delle balle e poi vabbè c'è stato tutto il resto 68 eccetera tutta storia da ricordare fra l'altro con giovanni siamo venuti qui a fare delle riprese proprio nella città di torino che è stata una protesta protagonista di tutto bisogna dire la verità sia del pc che del dopo pc che del 68 siamo andati infatti a la porta numero due di mirafiori che è stato uno dei punti caldi diciamo era con la città la città in quegli anni si diceva che torino era come andare alla mecca insomma no era un posto una città di pellegrinaggio perché allora la fabbrica era era una grande agorà davanti alla porta numero due di mirafiori c'era tutta la discussione politica fra tutti possibili immaginabili si litigava però poi alla fine si era anche d'accordo adesso ci siamo andati in giovanni ed era tristissimo c'erano qualche pensionato che veniva a portare a spasso i cani e poi tutti che uscivano quei pochi che sono rimasti perché io sto parlando di una mirafiori in cui c'erano centomila persone adesso invece sono poche migliaia che escono stavoli se ne vanno subito non si ferma nessuno non c'è la possibilità di un capannello non c'è la possibilità di una conversazione eccetera e vabbè quindi spero che lo andiate a vedere anche oltre a scriverne perché è un pezzo di storia che credo che valga la pena di che venga tenuto a mente un pezzo di storia importante che non è stato una cosa qualsiasi tanto vero che raggio io poi sono anche ottimista per me ottimista vuol dire che non è stata in vano quello che si è fatto e quindi che nonostante tutto ci sia una voglia di nuovo dai giovani di fare qualche cosa non gliel'importa niente ad andare alle elezioni questo è sicuro ma questo non vuol dire forse hanno pure ragione se posso non lo dite in giro ma insomma li capisco ma però ci hanno voglia però di di fronte a un mondo del tutto nuovo e quando sentono parlare di bonus naturalmente rimangono come dire annoiati ecco perché certo che ci vorranno pure ma insomma non sono certo quelli che potranno fare fronte alla crisi nel mondo che c'è oggi in cui è destinato a cambiare tutto fanno finta che sia una crisi congiunturale poi passa ma non è vero perché non è solo la questione ecologica è la questione che questo sistema non può più continuare così a produrre tante belle merci che tutte le sere vediamo alla televisione del supermarket e quello bisogna fare altre cose completamente smettere di fare merci e si potrà essere molto più felice e c'è un grande revival badate fra l'altro persino di carlo marse che nessuno cita e perché non fate un film voi su carlo marse prossimo progetto di giovanni sono dovuto andare per un libro che sto facendo per la casa editrice della cgl all'archivio di stato e nell'archivio di stato ci sono dei grandi faldoni su tutti gli scioperi che ci furono dopo un grande evento che fu nel 1963 una grande manifestazione di edili che fu spezzata da un attacco un assalto della polizia fu una prigione di tutto il successo e poi si scoprì che era della gladio alla provocazione che stava facendo gli esperimenti per vedere se il partito comune avesse fatto l'attacco al potere e dato l'assalto all'attacco d'inverno italiano come avrebbe dovuto comportarsi la polizia e quindi la polizia faceva un'esercitazione alla gladio che erano i servizi segreti della Nato in collegamento con quelli del Sifar attaccarono la folla degli edili che era a piazza Apostoli che è come una fettuccia stretta insomma fu un fatto drammatico subito dopo ci furono infatti scioperi in tutta Italia di protesta per questo fatto e sapete nei saldoni della polizia che cosa ho trovato nei saldoni conservati all'archivio che ci sono tutta la corrispondenza in quei giorni fra i prefetti e il ministero dell'interno e sapete come venivano chiamati allora gli edili nella corrispondenza? I marxisti sono in una stasmanordita che venivano chiamati i marxisti e mi è venuto in mente che forse adesso non sanno neanche chi è Marx e però c'è una grande ve lo dico perché insomma vedere un film che è un periodo in cui invece si sapeva chi era Carlo Marx aiuta c'è una grande ritorno di Carlo Marx a partire dall'America stranamente ce l'è più lì che non qua da noi e sono usciti, vi dico solo un dato che è quello che ho letto per caso sul Guardian a un certo punto che c'era un libro di un certo Saito Kohei che poi mi sono ricordata di avere conosciuto bene giovane docente all'università di Tokyo giovane, uno che ha meno di 40 anni che ha scritto un libro che si chiama Il capitale nell'antroprocene per una decrescita comunista la prima volta che qualcuno dice che la decrescita può anche essere felicità e non soltanto tragedia e che questo libro aveva venduto nella solo Giappone 500.000 copie che è una cifra che chi conosce un po' l'editoria assolutamente sbalorditiva e che questi 500.000 che l'avevano comprato hanno comprato questo libro hanno fatto un sondaggio e l'80% era di meno dei 35 anni sono andata a vedere se c'era una traduzione dal giapponese l'ho trovata finalmente dopo un po' sulla Cambridge University Press che ha fatto un'edizione del libro e dopo poco non c'era più neanche quella e adesso esce in Italia perché se lo sono litigati due editori per cui escono due cose simili un altro libro di Seito Koei per Castelvecchi e un altro libro che fa invece in Audi con il titolo che vi ho detto ma è curioso perché Mars prima di morire ha ripreso una tematica che ci aveva quando era molto giovane con i Grunrisse e negli ultimi anni della sua vita c'è nel suo pensiero una svolta molto ecologica e una critica al movimento operaio che è tutto concentrato nella produzione industriale e produzione industriale e sembra qualche cosa che va bene per il nostro tempo perché la problematica è questa solo che ci ridavano un Carlo Marx che se ne occupava che sono passati più di cent'anni e quindi dico questo per dire che questo film non è un film che parla dell'antiquariato ma di una cosa che ha vita interessante anche in questo momento grazie Vincenzo Vida ci abbiamo tre minuti io presidente dell'AMOD colgo questa sollecitazione di Luciana Castellina che ringrazio di essere qui con Giovanni Piperno Luca Ricciardi e l'Archivio Aurora Palandrani Paola Scarnati fondatrice dell'Archivio Matteo Angelici tanti altri forse Gabriella Gallozzi da queste parti nel Consiglio di Amministrazione hanno dato luogo a questo prodotto culturalmente interessantissimo che si regge su una storia raccontata con grande impegno e rigore ho visto un po' da vicino la crescita di questo lavoro culturale e si regge su un'ottima regia un'eccellente producer e una figura straordinaria che è Luciana Castellina io posso dirlo avendola frequentata come mia dirigente politica per un po' di anni raccoglierei questa sollecitazione su Carlo Marx perché Carlo Marx è molto vario non è quello della vulgata che la terza internazionale ci consegnò è molto interessante e poi anche perché mi sono accorto che tante persone l'hanno abbiurato senza averlo mai letto allora l'idea che potesse diventare oggi un argomento accanto a questo film che avrà successo faccio quello che non si fa io sono convinto perché ha tutti gli ingredienti perché è un po' un film un po' un autofiction un po' un racconto attraverso i materiali di archivio e solo i materiali di archivio rivisitati e riletti danno emozioni l'ha detto prima Giovanni che altre forme espressive non riescono a dare poi collaboratori di livello insomma io sono stato della partita essendo protempore presidente di questa bellissima fondazione e quindi sono lietissimo di essere qui con voi grazie grazie e in conclusione io voglio dire che all'interno del film c'è anche un momento di commedia italiana che potrebbe essere tranquillamente tratto da un film di Monicelli nel momento degli arresti di Luciana Castellina suor Vincenzina dice tornata Luciana che bello che bello che è veramente una sceneggiatura di agi e scarpelli grazie a tutti 16 mm dalla rivoluzione voglio dire che il film uscirà l'8 gennaio a Roma al nuovo Saker e da lì poi cercheremo una distribuzione se ci fosse un distributore in sala grazie 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 Grazie.